Siamo con la rappresentativa del Dragon City, squadra che è riuscita a vincere il terzo posto in questo trofeo di Dulcissi in fundo. Chiediamo le sensazioni prima a Mignanti e poi in un secondo momento a Vanco. Cosa mi sapete dire? Sapete dire che questa vittoria è stata molto meritata dal Dragon City e speriamo che il prossimo anno se rigiochiamo con l'AICS vinciamo la Coppa. Invece Vanco? Speriamo che il prossimo anno diventeremo primi e basta. È un salutone della maestra. Aspetta, adesso aspetta l'ultima domanda. No, Lino, vai, facciamo Lino. Prima al portiere chiediamo a Corbino che è stato sicuramente uno dei più rilevanti e che ha salvato tanti tanti tivi. Come sta la sensazione di aver salvato la propria squadra? Ho salvato le mie mie pensioni. Io ho guardato. Perfetto, io vi ringrazio a tutti i ragazzi e buona giornata. Drago City, sei forte, spacchi i pali nelle porte, gli avversari per segnare, si girano piano a pregare. Bebe, sale, acqua minerale, per parte il Drago City, ce vola nazionale, musica, musica, musica simponica, per parte il Drago City, ce vola poponomica.